Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo odisse creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci Xiu Derone. Daie! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xiu Derone e oggi ragazzi sembrerebbe che finalmente sia uscita la terza fase del prigioniero. Come vedete ragazzi c'è un sacco di gente qui nella montagna di palmetto paradisiaco, quella che vi avevo detto. Eccola qua e basta semplicemente andarci ragazzi e non succede niente. Ah! Quello l'ha ottenuto! Bisogna ragazzi! Maledetto! Bisogna ragazzi utilizzare questo falò! Bisogna utilizzare questo falò ed essere i primi ad utilizzarlo raga! Una volta utilizzato questo falò potremmo ottenere la fase numero... Sì! Lo posso usare! Non me lo fa usare! Aspetta! Usalo! Sì! 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 Siamo diventati... Siamo diventati con la terza fase raga! Siamo diventati alla terza fase! Va bene! Avete visto ragazzi? La montagna è quella! Andiamo a vederlo ragazzi in lobby! Andiamo a vederlo un attimo in lobby ragazzi! Fase numero 3 del prigioniero sbloccata ragazzi! Lo andiamo a vedere! Non vedo l'ora! Però sbrighes! Però sbrighes! Intanto mi raccomando utilizzate nello shop il codice creator XUDERONE! E fase numero 3! Sbloccata! Bella ragazzi! Pront! Ciao! 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 Ciao!